18 e 27, benvenuti al TG2000 cari amici, buonasera. Oltre 71 milioni di dosi di vaccino somministrate dall'inizio della campagna, ma sono ancora quasi 4 milioni e mezzo gli italiani con più di 50 anni che non ne hanno ricevuta neanche una. Il bollettino di oggi, 6.902 nuovi casi e 22 morti, tasso di positività al 2,3%. Sentiamo Clara Iatosti. Procede, secondo la tabella di marcia, la vaccinazione degli italiani. Sono oltre 71 milioni le dosi somministrate. In base all'ultimo report del governo, nell'ultima settimana si è registrato un incremento di più di 3 milioni e 300 mila. I dati pubblicati dal commissario straordinario per l'emergenza, il generale Filluolo, segnalano che le regioni hanno a disposizione 3 milioni di dosi, ma anche che quasi 4 milioni e mezzo di connazionali over 50 non ne hanno ancora ricevuta nemmeno una. Poco meno di 300 mila i cittadini over 80 non vaccinati, mentre il 73% degli adolescenti ha già ricevuto la prima dose ed il 9% tra i 12 e i 15 anni ha già concluso la vaccinazione. Nel report si rileva ancora che solo il 2% del personale sanitario non ha ancora ricevuto il vaccino, ma nei centri dedicati, medici e pazienti sono d'accordo sulla strategia adottata. Lo strumento più importante per la lotta al Covid, solo grazie alla vaccinazione è stato possibile, anche in una fase di circolazione importante della variante Delta, importante contagiosità, di portare veramente a dei numeri bassissimi il numero dei ricoveri, il numero delle ospedalizzazioni, nonostante la circolazione del virus. Sono d'accordo perché penso che il vaccino sia l'unico modo che abbiamo per uscire da questa situazione e io che sono ignorante a livello scientifico mi affido alla scienza. Tutto questo riesce appunto a farci uscire da questa situazione e ben venga, perché opporsi, non ha senso secondo me. Da ieri Green Pass per ristoranti, cinema e palestre. Da settembre dovranno avere il certificato verde anche coloro che prenderanno i treni a lunga percorrenza e gli aerei, obbligatorio pure per il personale scolastico, ma su chi dovrà fare i controlli arrivano le critiche dei presidi. Il servizio di Barbara Masulli. Qui, qui e anche qui. Da quasi 48 ore è cominciata l'era del Green Pass, nei ristoranti al chiuso come nelle palestre, nei musei e nei parchi divertimento, nei centri benessere e nei cinema. E già ci sono malumori e polemiche. I ristoratori si domandano se riusciranno a effettuare i controlli nelle serate con maggior afflusso di clienti. E non mancano i paradossi. Il lascia passare, ad esempio, non è richiesto a chi alloggia e cena in un hotel. Ad ogni modo, gli italiani hanno capito che senza carta verde la loro vita sociale sarebbe parecchio limitata. E infatti, solo nella giornata di ieri, scrive il ministro della Salute sui social, sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di Green Pass. È segno di grande collaborazione e senso di responsabilità. Con Green Pass e vaccini contrastiamo il Covid e viviamo un'estate più sicura, aggiunge Speranza. Quello del certificato verde sarà un percorso a tappe. Dal 1 settembre servirà anche per viaggiare. Parliamo di viaggi a lunga percorrenza, quindi navi, aerei, treni, mentre non sarà richiesto nel trasporto pubblico locale, perché sarebbe molto complicato effettuare i controlli. Altrettanto difficile da gestire la questione scuola. L'obbligo del Green Pass riguarda infatti anche i docenti e tutto il personale, eccezione fatta per gli studenti. Chi non lo avrà verrà sospeso e non riceverà la retribuzione. L'onere dei controlli spetterà ai presidi o a una persona da loro scelta. In caso di violazione delle regole, la multa dei 400 ai 3.000 euro arriverà al dipendente negligente e allo stesso dirigente scolastico. Non sono solo i sindacati a insorgere, gli stessi presidi si domandano come faranno a gestire il tutto. Il decreto sull'obbligo del Green Pass prevede 100 milioni di euro per lo screening della popolazione scolastica e 358 milioni per pagare i supplenti chiamati a sostituire il personale che non si presenterà a lavoro perché è privo di certificazione. Va detto che è già molto alta la percentuale di dipendenti della scuola vaccinati. Al momento, stando a report del commissario Figliuolo, solo il 14,8% del personale, ossia quasi 218.000 soggetti, non ha ricevuto neanche una dose di vaccino. La percentuale però schizza sopra il 30% in Sicilia, a Polzano, in Liguria, in Sardegna e in Calabria. Abbiamo accolto con favore il provvedimento del governo relativo all'istituzione del Green Pass per i dipendenti delle scuole perché si tratta di un dovere civico come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica e perché tutti coloro che sono in contatto con utenti di un servizio pubblico dovrebbero essere vaccinati proprio per evitare al massimo la diffusione del contagio e per tutelare la salute collettiva. Certamente si potrebbero porre dei problemi applicativi, naturalmente non mancheremo di fornire le nostre indicazioni, di dare i nostri suggerimenti. Rimane il fatto spiacevole che i dirigenti delle scuole hanno molte inconvense, devono far fronte a molte esigenze e però non hanno abbastanza personale. Spero infine che quando si tratterà di rinnovare i contratti del pubblico impiego ci si ricordi dei dirigenti scolastici e di tutto quello che hanno fatto in questo periodo perché il servizio scolastico rimanesse in piedi. E intanto i nuovi casi negli Stati Uniti hanno superato la media di 100.000 al giorno per la prima volta da febbraio, un livello più alto di quello della scorsa estate quando ancora non erano disponibili i vaccini. Situazione difficile anche in Asia e in Australia. Sentiamo Paolo Fucili. Stiamo ancora aspettando i vaccini, urla un ragazzo da Bangkok fra i fumi dei lacrinogeni. L'emergenza coronavirus infiamma anche proteste come questa in Thailandia, complice l'impatto del Covid sulla fragile economia del paese. Proteste di segno opposto invece per il quarto sabato di fila in 150 città francesi contro il Green Pass obbligatorio da lunedì per locali pubblici e mezzi di trasporto. Intanto però il virus non arretra, non solo in Francia. La variante Delta fa paura. L'Australia si difende così. Strade e negozi deserti a Sydney, alle prese col record dei quasi 300 nuovi casi di oggi. Stati a casa e vaccinatevi raccomandano le autorità. Massima allerta in Giappone, dove l'avanzata del virus segna più 15.600 contagi, mai così tanti in un giorno. L'Argentina, all'altro capo dell'Atlante, ha appena sfondato quota 5 milioni di casi totali. La Gran Bretagna invece 6 milioni, coi 30 mila nuovi di oggi. Gli Stati Uniti, con 35 milioni, rimangono il paese più colpito dalla pandemia e la quota 100 mila contagi, oltrepassata ieri, è la più alta dall'estate dell'anno scorso. Nonostante più di metà popolazione, proprio da oggi, sia vaccinata con due dosi. Anche l'India annuncia con enfasi il mezzo miliardo di dosi inoculate finora, poche comunque per il suo miliardo e più di abitanti. E a Varanasi, la città santa degli induisti sul Gange, la piena del fiume sacro, ha sommerso gli spazi usati di solito per cremare i cadaveri. L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato eletto presidente del Movimento 5 Stelle con un voto online. Conte ha ricevuto oltre 62 mila voti, pari al 92,8% dei consensi. Ce la metterò tutta per non deludervi, ha detto l'ex premier. Voglio restituire dignità alla politica, ha aggiunto, annunciando per settembre un tour in tutta Italia. L'Etiopia diventa sempre più una polveriera. L'esercito dell'Etiopia ha annunciato che potrebbe schierare la sua intera capacità difensiva dopo che i ribelli del Tigrai hanno respinto le richieste di ritirarsi dalle regioni vicine. Sentiamo Antonio Soviero. Dopo la minaccia del governo di Addis Abeba di impiegare tutto il potenziale militare contro i ribelli del Tigrai, rischia di precipitare la situazione in Etiopia con conseguenze ancora più drammatiche per la popolazione civile. Ieri il fronte di liberazione del popolo del Tigrai ha rispinto la richiesta del governo di ritirarsi da due regioni vicine. A questo punto Addis Abeba sta seriamente pensando di cancellare il cessato del fuoco unilaterale in vigore da settimane per provare a farla finita con i tigrini. Ma non sarà così facile, visto che i ribelli, che hanno governato l'Etiopia per 30 anni, hanno dimostrato finora di essere un osso duro. L'esercito governativo, neanche con l'aiuto di militari eritrei, è infatti riuscito a domarli. A questo punto si rischia una sanguinosa guerra civile nella secondo più popoloso paese africano. Finora, in nove mesi di scontri, ci sono stati migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati. Per quest'ultimi, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente dopo che il governo di Addis Abeba ha sospeso per tre mesi le attività umanitarie di due organizzazioni internazionali. La situazione in Etiopia sta degenerando di ora in ora. Per quale motivo? Perché il conflitto non è più circoscritto alla regione autonoma indipendentista del Tigrai, compresa, geograficamente parlando, tra l'Eritrea, e il resto dell'Etiopia. Noi ora a questo punto siamo di fronte ad un conflitto che non è più asimmetrico, da una parte i ribelli e dall'altra l'esercito governativo, un esercito regolare. I ribelli del Tigrai stanno dimostrando una potenza, manifestando una potenza di fuoco di gran lunga superiore, perché stanno sconfinando in territorio Amara e nell'Affara, il che significa che siamo di fronte ad una guerra civile a tutto campo tra due eserciti. Dietro le quinte c'è naturalmente qualcuno che getta benzina sul fuoco. È evidente che vi sono delle responsabilità da parte dei paesi limitrofi. In particolare io penso al ruolo del Sudan e dell'Egitto, che naturalmente contrastano politicamente, ma non solo, il progetto della realizzazione della grande diga sul fiume Nilo, che sta molto a cuore al presidente Abim Ahmed, la diga del Rinascimento. Certamente la diplomazia africana a questo punto sembra essere proprio la bella addormentata, perché le iniziative negoziali lasciano molto a desiderare. Sbarchati oggi i 257 migranti della Sea-Watch 3 arrivata questa mattina al porto di Trapani. A bordo anche 70 minori non accompagnati, tutti sottoposti al tampone prima di essere trasbordati sulla nave quarantena, dove osserveranno il periodo di osservazione prima di essere trasferiti nei vari centri dell'isola. Arriverà invece domattina a Pozzallo, nel Ragusano, la Ocean Viking con 549 migranti a bordo e un centinaio di minori. Le fiamme non danno tregua in Grecia e in Turchia, abitazioni distrutte, boschi, incenere e evacuazioni di centinaia di persone. Sentiamo Adriano Di Blasi. Mediterraneo in fiamme. Da più di una settimana ormai alcuni tra i maggiori paesi che affacciano sul mare stanno combattendo una battaglia contro gli incendi che non dà tregua. L'emergenza è massima in Turchia con oltre 200 roghi negli ultimi nove giorni. Di questi, 196 sono stati domati grazie al lavoro incessante delle squadre di soccorso. Un esercito che può fare affidamento su 56 elicotteri e 16 aerei arrivati da Russia, Ucraina, Spagna, Croazia e Azerbaijan che ha inviato anche 750 pompieri. L'allarme resta alto soprattutto nella provincia di Mugla, nel sud-ovest del paese dove sono state arrestate sei persone con l'accusa di aver appiccato le fiamme a conferma di quanto il fattore umano sia centrale in questi drammatici eventi. Il presidente turco Erdogan ha promesso che il governo ripianterà oltre 250 milioni di alberi entro fine anno per ripristinare i 100 mila ettari distrutti. Ancora più drammatica la situazione in Grecia e in particolare nella penisola dell'Attica che comprende Atene dove due persone sono morte e migliaia di residenti e turisti sono stati evacuati. Chiudete tutte le finestre e non uscite di casa l'invito rivolto dalle autorità alla popolazione nel nord della capitale dove l'aria ormai è resa irrespirabile dal fumo. Nonostante l'impegno di 1450 vigili del fuoco 15 aerei e rinforzi arrivati grazie alla solidarietà di alcuni paesi europei i venti forti e il clima torrido spingono sempre più velocemente le fiamme sui monti vicini ad Atene ma gli incendi non risparmiano anche Olimpia Sparta e parte del Peloponneso un'emergenza che coinvolge anche moltissimi migranti presenti nel paese ieri a Malacasa è stato evacuato un centro di accoglienza che ospitava circa 2000 persone In Italia gli incendi continuano a flagellare la Sicilia e la Calabria mentre in Sardegna prosegue la conta dei danni dopo il gigantesco rogo dei giorni scorsi Vito De Torre I Canadair non si sono fermati un momento e continueranno a lavorare fin quando non sarà buio Il lavoro svolto dai piloti della flotta antincendio dello Stato ha permesso di mettere sotto controllo finora sette roghi nel parco dell'Aspromonte in Calabria La notte scorsa le fiamme hanno minacciato una delle zone più belle del sud nella provincia di Reggio Calabria ricca di coltivazioni di bergamotto un territorio unico al mondo ettari di bosco e terreni agricoli che sono andati in fiamme poco distante dal comune di San Lorenzo dove due persone hanno perso la vita intrappolati dalle fiamme nel tentativo di spegnere un incendio in Sicilia ancora roghi tanto che la regione ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per sei mesi a causa dei gravi incendi che da metà luglio stanno mettendo in ginocchio l'isola di nuovo emergenza anche in Sardegna la situazione più preoccupante è a Trinità d'Agulto e Vignola nel Sassarese e sull'isola ci si interroga ancora sulle ragioni degli incendi che una settimana fa hanno distrutto oltre 20.000 ettari tra boschi pascoli e terreni coltivati una sciagura mai vista prima che forse poteva essere evitata o comunque contenuta se ci fosse stata una diversa manutenzione del territorio purtroppo ci sono dei vincoli soprattutto sul patrimonio boschivo tali per cui non è possibile spostare neanche una pietra e quindi è stato proprio questo probabilmente uno dei fattori principali che ha portato alla devastazione di un territorio così vasto arriva il caldo africano su quasi tutta l'Italia mentre gli italiani si spostano per andare in vacanza una persona su tre sceglie una meta vicino casa anche per via dell'emergenza sanitaria Luca Licata stavolta l'anticiclone nord africano investirà praticamente tutta l'Italia nelle prossime ore al sud si toccheranno punte di 40 gradi soprattutto nelle zone interne di Sicilia e Sardegna il bel paese sarà stretto nella morsa del caldo anche tutta la prossima settimana weekend di ferragosto compreso le previsioni danno quei giorni come più roventi del 2021 con caldo record il rischio è quello di toccare addirittura superare i 45 gradi al sud e nelle isole intanto già da questo fine settimana sono tantissimi gli italiani in partenza per le vacanze anche quest'anno come quello scorso prevale la scelta di un turismo interno un italiano su tre secondo un'indagine di Coldiretti sceglie una meta vicino casa in molti si recheranno all'interno della propria regione di residenza o comunque in Italia la paura è tanta e preferisco rimanere in Italia anche perché in Italia ci abbiamo tanto mare tante belle cose da fare vado in Salento nel Cilento a Marina di Camerota vacanza in montagna ci ricaviamo un po' di tempo libero posso chiederle la località? Donomiti andiamo all'isola di Ponza e ben Sardegna San Felice di Urceo qui vicino torno in Libano perché vivo là quindi la vacanza finisce adesso Sardegna e Barcellona in Spagna quindi andrà anche all'estero? andrò anche all'estero sì 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 non è preoccupato? assolutamente no doppio vaccino e distanza di sicurezza siamo già in vacanza noi quindi siamo qui da una settimana abbiamo visitato Roma che è bellissima in ogni angolo abbiamo scoperto di quelle cose fantastiche per me era la prima volta a venire a Roma sono felicissima e ci tornerò ancora di sicuro proseguiamo con la cronaca i carabinieri del Rosso hanno arrestato oggi il boss Maria Licciardi ritenuta dalla DDA di Napoli capo del clan omonimo e figura di vertice del cartello camorristico chiamato Alleanza di Secondigliano sentiamo Luigi Ferragliuolo è stata arrestata all'aeroporto di Ciampino a Roma mentre si recava tranquillamente in Spagna a Malaga a Maria Licciardi a mente fina la mente raffinata l'unica donna in Italia ma forse anche nel mondo a capo di un cartello mafioso l'Alleanza di Secondigliano il cartello famoso per le sue trucculenti azioni militari e per aver ispirato l'ultima guerra di Camorra ha le basi a Napoli nell'area nord della città Secondigliano e mette insieme le famiglie Licciardi Contini Bosti dei quartieri Vasto Arenaccia e il Mallardo di Giuliano in Campania un cartello che ha anche ispirato la fiction Gomorra Senza grandi clamori ha scontato una pena definitiva per associazione camorristica al 41 bis nel carcere dell'Aquila e secondo un pentito sarebbe stata la ispiratrice di diversi omicidi ma su questo non c'è mai stata alcuna contestazione né processo La donna si stava recando in Spagna per trascorrere il ferragosto con la figlia Regina che a Malaga gestisce alcune imprese di produzione di abbigliamento che riforniscono il mercato iberico ma anche italiano la Spagna in particolare l'Andalusia è da anni terra di conquista per i clan campani della Camorra che vi hanno realizzato imponenti investimenti in ogni settore la mano dei loro reinvestimenti è stessa ovunque e anche i licciardi hanno esteso nel riciclaggio gran parte del denaro acquisito e guadagnato in maniera illecita Nadidia di Napoli l'ha arrestata con l'accusa di essere l'elemento di vertice del clan di cui porta il nome ma l'espediente per arrestarla sono in pratica le minacce rivolte in prima persona sbagliando a una donna che non aveva rispettato i patti con il clan esattamente 800 anni dalla morte di San Domenico di Guzman fondatore dell'Ordine dei Predicatori un testimone della fede e del Vangelo sentiamo la riflessione sulla sua figura dello storico Massimo Carlo Giannini l'8 agosto noi celebriamo l'ottocentesimo anniversario della morte di San Domenico al secolo Domingo di Guzman il quale in realtà morì il 6 agosto 1221 a Bologna è una delle più importanti figure della chiesa medievale il quale ebbe l'intuizione in parallelo e in contemporanea con San Francesco di istituire un ordine religioso mendicante cioè assolutamente povero l'ordine dei frati predicatori detto poi l'ordine dei Domenicani il quale secondo la grande idea la grande visione di San Domenico doveva praticare in povertà l'apostolato la predicazione e anche una preparazione avere anche una preparazione culturale soprattutto in ambito teologico necessario a questa attività di conversione e predicazione volta soprattutto a recuperare alla chiesa eretici e infedeli si tratta quindi di una intuizione che istituisce un ordine mendicante il quale rappresenta uno degli strumenti con cui i pontefici dei primi del XIII secolo cercarono di mantenere unita una chiesa in grande difficoltà e attraversata da profondi conflitti ora ai nostri giovani lettori la rubrica nella quale viene raccontato il libro più significativo della propria vita sentiamo allora se devo pensare al più bel libro che ho mai letto in vita mia viene quasi immediato pensare il nome si esposi di Alessandro Manzoni un libro che rilessi al liceo per la prima volta in terzo anno e che rilessi poi successivamente all'università e chiaramente abbia un effetto totalmente diverso al liceo mi annoiava un po' di più all'università invece ebbe un'influenza maggiore per il fatto che ritrovavo nelle pagine di quel libro nelle storie di Renzo e di Lucia un'estrema somiglianza con quella che era la mia storia nonostante loro fossero personaggi inventati che vivevano culture storie epoche storiche diverse lontanissime dalla mia ma ritrovare in quelle storie la mia fu qualcosa di veramente suggestivo e bello questa sera grande inaugurazione per la 65esima edizione del Tindari Festival diretto artisticamente da Anna Ricciardi con il capolavoro verista di Pietro Mascagni la cavalleria rusticana Alessandra Camarca va in scena la cavalleria dodici anni dopo un'opera pop ma anche un vero e proprio seguito del capolavoro di Mascagni la cavalleria rusticana che ha aperto la serata alla Villa Bellini di Catania per il festival lirico dei teatri di Pietra organizzato dal coro lirico siciliano e che stasera andrà in scena al teatro greco di Tindari inaugurando la 65esima edizione del Tindari Festival lo spettacolo spiega cosa avviene ai personaggi della cavalleria dopo i fatti raccontati da Verga e musicati da Mascagni il compositore livornese direttore d'orchestra Mario Menicagli immagina compare Alfio il protagonista uscito di prigione che chiede il perdono della comunità Turiduzzu figlio di Santuzza e Turiddu che scorrazza per ameno paese mentre ritroviamo anche mamma Lucia Santuzza e Lola nel finale Allegria Gioia e Grande Festa La Cavalleria Russicana è un'opera in un atto unico di Pietro Mascagni sul libretto di Giovanni Targione Tozzetti e Guido Menasci tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga andò in scena per la prima volta nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma con Gemma Bellincioni e Roberto Stagno interpretati ora da Piero Giugliacci e Patrizia Patelmo rispettivamente Turiddu e Santuzza dopo questa sera la cavalleria 12 anni dopo andrà in scena il 27 agosto a Siracusa Ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo restate con noi eccoci di nuovo insieme un'ultima ora prima di chiudere di due filiti il bilancio di un incendio divampato in una palazzina a Torino le fiamme si sono sviluppate al piano terra per motivi ancora da accertare due le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute sul posto e per questa edizione è tutto ora il meteo e poi la Santa Messa e il Tg tornerà alle 20 e 30 buon proseguimento di giornata a più tardi